Musica In studio Giada Giacquinta Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG Sfruttamento del lavoro Sono stati denunciati due soci, titolari di due aziende agricole nel Lipparino Uno dei titolari è stato inoltre arrestato per furto d'energia elettrica Intere famiglie d'origine rumena dimoravano all'interno delle aziende Negli alloggi erano presenti, pensate, anche dei bambini I lavoratori, tutti originari della Romania, vivevano in magazzini trasformati in abitazioni Degli spazi sui quali sono tutt'ora in corso degli accertamenti su eventuali abusi edilizi Degli spazi concessi dai titolari dell'azienda Lì vivevano interi nuclei familiari composti anche da minori I lavoratori venivano impiegati in totale assenza di condizioni di sicurezza E pagati in modo difforme rispetto a quando indicato dai contratti di settore Un copione che si ripete, quello dello sfruttamento del lavoro Riscontrato nel corso di controlli effettuati in aziende del territorio del Lipparino Dalla Polizia di Stato Squadra mobile e commissariato di Vittoria In concerto con l'ispettorato del lavoro e dall'ASP Al momento dei controlli, i lavoratori si trovavano all'interno dell'azienda Intenti a coltivare le serre Mentre uno dei soci ha mostrato agli agenti dei documenti inerenti all'assunzione dei lavoratori Da quelli emergevano diversi indici di sfruttamento Una volta che sono state incrociate le dichiarazioni dei lavoratori I due titolari, un 56enne e un 51enne di Vittoria Soci di due aziende agricole e parine Sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro Con l'obbligo di adeguamento alle normative vigenti Tuttavia, poiché nel corso dei controlli sono stati scoperti due lacce abusivi Considerata la gravità della tipologia del furto alla rete di fornitura elettrica Il 56enne, effettivo titolare dell'azienda, è stato sottoposto agli arresti domiciliari In corso di definizione ancora anche sulla base della documentazione Che i titolari dovranno esibire nei prossimi giorni Gli importi delle sanzioni combinate da tutti gli enti intervenuti al termine dei controlli Tenta di uccidere un rivale con un cric Arrestato per tentato omicidio a comiso dalla polizia di Stato Un pregiudicato di 41 anni In un primo momento la vittima aveva dichiarato di essersi procurato Le ferite a seguito di un incidente stradale Ma la sua versione non ha convinto gli agenti che hanno iniziato le indagini Che hanno poi portato all'identificazione del colpevole E a ricostruire la dinamica dei fatti Le indagini degli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di comiso Erano iniziate da una segnalazione giunta dal pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria Dove il 20 febbraio scorso un uomo noto alle forze dell'ordine Era arrivato in ambulanza con diverse ferite alla testa Un trauma cranico e una frottura scomposta dell'osso paritale In un primo momento aveva dichiarato di essersi ferito a seguito di un incidente stradale E aveva rifiutato il ricovero in ospedale Le sue dichiarazioni però erano risultate poco credibili Pertanto gli agenti si erano recati al mercato ortofrutticolo di comiso Dove l'uomo lavora come venditore ambulante Per raccogliere qualche elemento utile alle indagini Una volta sul posto hanno appreso da alcune persone che avevano assistito alla scena Che l'uomo era stato coinvolto in una collutazione con un altro soggetto Dagli elementi raccolti gli agenti hanno appurato Che il diverbio tra i due era avvenuto per motivi riconducibili a vecchie dietrible per gresseliti Passate rassegna poi le immagini del sistema di videosorveglianza del mercato ortofrutticolo di comiso Con l'ausilio della polizia scientifica di Ragusa Si è risaliti a un altro pregiudicato del territorio casmeneo Luca Corifeo di 41 anni Ripreso dalle telecamere intento a caricare la merce appena acquistata vicina a una moto ape Corifeo non appena si è accorto della presenza dell'altro pregiudicato Dirigersi verso di noi con un coltello in mano Ha preso un cric dall'abitacolo del suo mezzo iniziando una colluttazione Ad aggravare la posizione del 41enne Il fatto che non si sia limitato a difendersi Ma che abbia colpito più volte con il cric l'uomo nonostante fosse a terra privo di sensi Per poi fuggire a bordo della propria moto ape Allontanandosi mentre l'altro rimaneva a terra stordito Ed è così che dall'esito delle successive indagini affidate alla procura della Repubblica Di Ragusa è stata richiesta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Corifeo Veste azioni ed umiliazioni per anni Al solo scopo di ottenere dai genitori i soldi per procurarsi la droga La madre del giovane esasperato ha deciso di denunciare il figlio Che è stato arrestato dai carabinieri di Catania Già indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia Ed estorsione aggravata commessi a danno dei genitori Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri Dalla fine del 2018 oggi i genitori sono stati costretti a subire una serie di atti vestatori Che ne hanno condizionato il sereno vivere quotidiano L'uomo caduto nella spirale della droga era tornato a vivere con i genitori Dopo essersi separato alla compagna dalla quale aveva avuto una figlia Ritornando a casa ha cominciato a tormentare quotidianamente madre e padre Al fine di ottenere i soldi per l'acquisto della droga E per soddisfare le proprie esigenze personali Un'escalation di violenze con minacce di suicidio Tra l'altro tentato lo scorso dicembre al porto di Catania E ritorsioni contro la madre in presenza anche alla sorella di soli 11 anni I genitori hanno anche cercato un aiuto nei medici dell'aspetnea Per avviare un percorso di disintossicazione Ma il ragazzo si è rifiutato L'ultimo episodio di minacce ha portato la madre a sentirsi male e a recarsi in ospedale Qui il figlio incurante alle condizioni di salute della madre L'ha raggiunta per continuare a minacciarla La donna esasperata ha sporto denuncia ai carabinieri Quattro arresti è una denuncia Questo l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Vittoria Nelle aree rurali che sia anche nelle periferie dei principali centri urbani Eseguite numerose perquisizioni sia domiciliari, personali ma anche veicolari Nei territori di Scoglitti, Acate, Comiso, Vittoria e Chiara Montegulfi E' stato l'atteggiamento del pregiudicato 68enne Vincenzo Lomona Conso spettire i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittoria Nel corso di controlli a Scoglitti I carabinieri l'hanno pedinato fino alla sua abitazione Dove a seguito di una perquisizione hanno rinvenuto 4 grammi di cocaina Suddivise in più dosi 1.500 euro suddivise in banconote di piccolo taglio Provento dell'attività illecita e due bilancini di precisione L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari Sempre per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti E' stato arrestato anche dai carabinieri della stazione di Acate Un'albanese di 44 anni trovato con addosso 23 grammi di cocaina Un bilancino di precisione e una somma di 1.300 euro Suddivise in banconote di piccolo taglio Ovvero similmente provento dell'attività illecita Per l'albanese si sono aperte le porte del carcere di Ragusa Questi sono solo due degli arresti effettuati dai carabinieri della compagnia di Vittoria Grazie al lavoro incessante delle stazioni di Scoglitti, Acate, Comiso, Vittoria e Chiaramonte e Gulfi Nel corso di controlli effettuati in aree rurali delle periferie dei principali centri urbani Le numerose perquisizioni domiciliari, personali e veicolari Hanno anche portato ieri all'arresto da parte dei carabinieri di Acate Di un 32enne romeno destinatario di un ordine di carcerazione Perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato Commesso a Palermo nel febbraio del 2012 Sei mesi di reclusione nel carcere di Ragusa per lui E poi ancora è stato deferito e stato di libertà Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catania Un 17enne gambiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Il pusher è stato beccato dai carabinieri della stazione di Comiso Con 8,5 grammi di hashish suddivise in dosi Segnalato alla prefettura di Ragusa l'assuntore Un sudanese di 20 anni sorpreso con addosso 3,5 grammi di hashish Infine i carabinieri della stazione di Vittoria Hanno arrestato un bracciante agricolo di 26 anni Originario di Vittoria per furto aggravato di energia elettrica Il 26enne posto agli arresti domiciliari Avevano messo il contatore dell'energia elettrica Al fine di eluderne il reale consumo Il danno erariale stimato ammonterebbe a 4.800 euro circa Sventato un furto dai carabinieri della compagnia di Ragusa All'istituto tecnico-tecnologico Gagliardi I ladri avevano forzato la porta d'ingresso E si sono introdotti all'interno con l'intento di trafugare E passare la liscia approfittando dell'oscurità Non curanti però che la struttura è munita di sistema di allarme Che una volta scattato ha fatto sì che potessero giungere sul posto Tempestivamente le forze dell'ordine I malfattori alla vista dei carabinieri Se la sono data a gambe fuggendo dal retro del cortile Dai campi retrostanti a mani però vuote Per la pattuglia non è stato possibile raggiungere i due autori dell'intrusione Ma sono già state avviate delle indagini per risalire malfattori A partire dalle tracce lasciate sul posto E un incendio è dimappato questa mattina all'ospedale 10 Reale Intorno alle 10 e 40 I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme Che avevano interessato il vano scala sul retro del reparto di fisiatria al primo piano Non è stato però necessario evacuare i pazienti ricoverati Ma solo la messa in sicurezza dei locali Fino al completo ripristino delle loro ordinarie condizioni di fruibilità A supporto del personale del distaccamento 10 Reale Nelle operazioni di spegnimento è stata inviata anche un'autoscala Dalla sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento E così come anticipato i lavori dell'Igm a Modica I lavoratori hanno scioperato questa mattina nella sede della società Cosa chiedono? Il pagamento delle mensilità di dicembre, gennaio o febbraio Ma al momento è stato saldato solo il mese di novembre Intanto il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha rassicurato Entro la settimana prossima arriveranno circa un milione di euro nelle casse dell'Igm Che serviranno a pagare dicembre e gennaio I dettagli Dovevano erogare le mensilità di gennaio e dicembre e gennaio Entro questa settimana e purtroppo questo non è accaduto Sono passate dunque due settimane circa dalla giornata di sciopero non autorizzata Nella sede dell'Igm a Modica E questa mattina i lavoratori, così come programmato con i sindacati Sono tornati ad incrociare le braccia Le motivazioni sempre le stesse Chiedono il pagamento degli arretrati Dicembre, gennaio e febbraio Il mese di novembre, così come era stato garantito dal sindaco Ignazio Abbate È già stato saldato Un ritardo nell'erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti Ha fatto scattare la protesta di questa mattina Ma nonostante questo, circa 20 lavoratori con contratto a tempo determinato Hanno garantito comunque i servizi essenziali L'ultimo accordo prevedeva il pagamento dei mesi di dicembre e gennaio Entro la giornata di ieri Ma ad oggi dunque, come detto, nessun pagamento Andremo a indire ulteriori giornate di sciopero Tra il 6, 7 Nella mentalità, nel mese di aprile Nulla è escluso che andremo a fare qualche oretta di assemblea Per poter concordare con i lavoratori Quando da fare da qui in avanti L'unedì intanto riprenderanno regolarmente a lavorare In attesa di risposte che dovrebbero arrivare entro la settimana prossima Silvio Balsamo, segretario generale della Will Transporti Ragusa-Siracusa Ha evidenziato che, se non saranno saldate le tre mensilità arretrate Non si escludono altre giornate di sciopero Ma il sindaco Ignazio Abate rassicura, si dice fiducioso Entro tre giorni circa arriveranno circa 580.000 euro dalla Cassa Depositi e Prestiti Che vanno ad aggiungersi alle 140.000 euro già anticipate E con cui è stato pagato il mese di novembre La restante parte sarà garantita dal bilancio del Comune, ancora detto Abate In modo tale da arrivare a circa un milione di euro Che servirà a pagare dicembre e gennaio Emergenza abitativa Coinvolgere il terzo settore Per aiutare le famiglie in difficoltà Che in questo momento non hanno una casa E questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Catania Che erogherà dei buoni casa da 3.000 euro Per ogni contratto di locazione Sara Donzuso I dati diffusi proprio lunedì scorso a Catania Dai sindacati e inquilini sono allarmanti Il 2018 ha previsto un 10% in più di sfratti Con migliaia di persone che non hanno una casa Da qui l'appello dei sindacati all'amministrazione comunale Affinché si apre un tavolo di confronto Per analizzare possibili soluzioni E a pochi giorni di distanza Proprio l'amministrazione comunale risponde ai sindacati Avviando un'indagine rivolta ai soggetti del terzo settore Finalizzata al reperimento di alloggi liberi doni Da inserire all'interno di un elenco di immobili disponibili alla locazione Anche momentanea A singole persone o nuclei familiari privi di abitazione Gli eventuali alloggi segnalati dovranno essere ubicati sul territorio locale O nell'immediato interland E in buono stato di manutenzione Essere iscritti al Catasto Con destinazioni di civile abitazione E con una superficie utile di non oltre 96 metri quadrati E infine essere liberi da persone o cose Queste caratteristiche dovranno essere dichiarate Mediante un'autocertificazione Per ogni contratto di locazione stipulato Tra il conduttore, i soggetti e il terzo settore interessati L'amministrazione comunale corrisponderà direttamente A quest'ultimi un non contributo denominato buono casa Questa somma va considerata come un intervento Di sostegno al cittadino in difficoltà economiche Ed in emergenza abitativa L'importo massimo di 3.000 euro per 12 mesi Compreso il deposito cauzionale Sarà corrisposto in due momenti 750 euro successivamente alla sottoscrizione del contratto Come deposito cauzionale prima mensilità E la rimanente somma verrà liquidata con non cadenza bimestrale Tutte le istanze di adesione all'iniziativa di ricerca di immobili Per fare fronte all'emergenza abitativa Dovranno pervenire presso la Direzione Famiglie e Politiche Sociali In via D'Usmet 141 a Catania E proprio a Catania sono più di 1.000 gli abitanti del quartiere Librino Che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa del mecenate Antonio Presti Presidente di Fiumara d'Arte Che le ha coinvolti in un maestoso progetto di bellezza per il quartiere Il Cantico di Librino che verrà inaugurato lunedì mattina Si chiama il Cantico di Librino Ed è il nuovo progetto artistico di Antonio Presti Che ha coinvolto diversi fotografi e migliaia di cittadini Che hanno ribattezzato la loro esistenza nel nome di San Francesco I volti e i cuori di oltre 1.000 abitanti di Librino Dunque inneggiano alla gioia Da uno dei muri che per anni ha segnato il destino del quartiere Quello dell'asse attrezzato Uno spartitraffico del centro della città di Catania E la sua periferia Dove oggi si incrociano rinascite e riscatto sociale Questi 500 metri di cemento armato e di pregiudizi Sono stati abbattuti dalle testimonianze contemporanee di amore e speranza Divenuti degli archetipi identitari di un'intera comunità Grazie al linguaggio e all'anima e al potere della parola Deus ex machina di questo bellissimo progetto Che verrà inaugurato lunedì mattina E Antonio Presti, presidente di Fiumara d'Arte Che ha dato vita ad un'opera davvero monumentale Il Cantico di Librino Un'installazione monumentale fotografica Realizzata con grande cuore Gli abitanti di Librino ci hanno messo la faccia E noi artisti con otto grandi fotografi Antonio Parinello, direttore artistico Siamo riusciti a restituire un valore universale di belletto Una bellezza che trova nelle immagini Accompagnate dalle parole del Cantico il suo senso Librino oggi più che mai manifesta con questa bellissima opera Il suo essere opera La vera opera sono i migli abitanti Che si sono prestati insieme con tutte le scuole Tutte le associazioni, il mondo della chiesa A restituire un diritto alla cittadinanza Che oggi più che mai passa per quella democrazia universale Di essere creatura dell'universo Ed è stata svelata la data dell'inizio dei lavori Del rifugio sotterraneo a Modica Il 2 maggio Tuttavia il sindaco Abate Non intende comunicare ancora a chi andrà Alla gestione del museo E ha dichiarato che verrà comunicata a tempo debito Il sindaco di Modica, Ignazio Abate Ha ufficializzato nella giornata di ieri Che il 2 maggio inizieranno i lavori Per quanto riguarda il bunker sotto piazza Matteotti Un bunker che è stato individuato E però di cui risulta murato l'ingresso La prima operazione sarà proprio questa Ripristinare l'antico ingresso da piazza Matteotti Poi i lavori di consolidamento E successivamente si valuterà la destinazione d'uso Anche se il sindaco di Modica è stato molto chiaro Quello sarà un museo civico che racconterà Degli anni della seconda guerra mondiale E del dopoguerra Un vero e proprio cantiere Per andare a riprendere l'apertura E il primo ingresso Quello che si trova proprio su piazza Matteotti E per scendere Credo che l'emozione sarà grande Per scendere nel bunker E scendere veramente in quella parte Nascosta della nostra città Che sicuramente la nostra generazione Completamente sconosce E poi la cosa bella Che è anche la posizione centrale Rispetto alla città di questo bunker Perché sicuramente ci sono bunker in tutte le città Per il periodo della guerra Ma questo è particolare Perché si trova nel centro culturale E pulsante della nostra città A chi verrà affidato il servizio Anche di curare il museo Nei minimi dettagli Chi gestirà proprio il museo Una domanda bella Sicuramente è importante Ma credo c'è un'interlocuzione Con chi dovrebbe mettere a disposizione Anche tutta la parte degli arredi Tutti i cimeli Di quel periodo Del periodo della guerra Quindi magari ci sarà un momento opportuno Per svelare anche questo segreto E sicuramente regna un alone di mistero Al momento Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria Ma restate con noi Perché si parlerà della giornata dell'acqua Celebrata ieri dopo la pubblicità E in occasione appunto È stata organizzata un'interessante iniziativa a Scicli Pubblicità a tra poco Ben trovati in studio Come annunciavamo prima della pausa pubblicitaria Ieri è stata celebrata la giornata dell'acqua Che ha visto un bel momento di approfondimento Sul tema del diritto alla fruizione Di questo bene così prezioso Ieri nel corso di un evento Organizzato a Scicli Dallo Svimed Sentiamo Il racconto Il racconto La testimonianza di chi non sa cosa sia aprire un rubinetto dell'acqua per bere quando si vuole Acqua limpida La storia di chi prende una bacinella per riempirla di acqua Il cui colore farebbe desistere chiunque dal berla Tutti Tranne chi non ha un'alternativa In occasione della giornata dell'acqua Lo Svimed di Ragusa Ha scelto di presentare la propria realtà E di proporre la propria campagna al Mediterranean Hop Alla casa delle culture di Scicli Quest'anno a differenza degli altri anni Il tema che l'ONU ha dato per la celebrazione della giornata mondiale dell'acqua È non lasciare nessuno indietro Dritti umani e rifugiati E abbiamo pensato proprio a MH Alla Mediterranea Hop Alla casa delle culture di Scicli Proprio perché è l'esempio in Sicilia Dell'accoglienza dei rifugiati Voi pensate Campi profiche enormi In cui non hanno la possibilità nemmeno di lavarsi O di avere l'acqua potabile o l'acqua per cucinare Ecco questo è un momento di sensibilizzazione Che lo stiamo facendo sia Insieme a MH Ma anche ai Lions della provincia di Ragusa Perché Lions Stasera ci sarà anche Una presentazione Una ONLUS La MK ONLUS Che costruiscono pozze d'acqua nel Burkina Faso Collaborare attivamente al convegno I componenti del Mediterranea Da sempre comunque anche le chiese valdesi Da cui noi comunque proveniamo Quindi il nostro progetto è finanziato in larga parte Dall'8 per mille le chiese valdesi Sono attenti all'ambiente Abbiamo anche una commissione territoriale Ambientale Scusa che si chiama GLAM Che è Globalizzazione Ambiente Che ha proprio un occhio di riguardo A quello che sono i problemi ambientali Quindi comunque ci siamo sentiti tirati In causa In questa problematica Abbiamo cercato di organizzare questo evento Proprio per poter far raccontare Ai nostri ospiti Che attualmente ospitiamo alla Casa delle Culture E che sono arrivati attraverso i corridoi umanitari E hanno raccontato il loro rapporto E le loro esperienze con l'acqua E adesso parliamo di sport Perché ieri a Modica si è svolta Una interessante, bella e coinvolgente giornata di sport Con un grande evento organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio Seconda giornata del torneo organizzato dalla FIGICI Ad essere calpestato dai tacchetti dei giocatori Under 13 Ieri pomeriggio il Prato dell'Airone di Modica I ragazzi allenati da Marcello Casiraro Rientrano nell'elite del territorio nazionale Sei le squadre a scendere in campo A rientrare nelle caratteristiche richieste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio La Mister Pro Calcio contro Ragusa Boys E poi ancora la Real Gela contro la CL Calcio E infine Modica Irone contro lo Sport Club Nissa Da controlli, da analisi fatti dai tecnici Dei vari comitati provinciali e regionali Sono le migliori scuole di calcio Dove vengono applicate le metodiche, le metodologie E i tecnici si comportano in determinati canoni di comportamento Nel senso che fanno veramente e insegnano calcio Contenti i ragazzi di Mister Casiraro Che li ha preparati e spronati per il grande momento La nostra categoria esordietta Ha un modo di potersi confrontare con tutte le migliori della regione Per noi è un motivo di orgoglio Anche per la loro crescita sia a livello educativo che a livello tecnico Tu sei il capitano quindi hai una grande responsabilità Sì, sì Che responsabilità hai il capitano? Di portare avanti la squadra E di farla andare avanti e vincendo sempre Con un gruppo unito È un'opportunità per farci vedere comunque davanti a tutti Un assist e farò vincere la mia squadra Tu che ruolo hai? Terzino o sinistro? Cercherò di non far passare nessuna palla Terzino o destro? Voglio vincere con la mia squadra Ed è tutto per questa edizione Grazie per averci seguito Vi auguro buon pomeriggio e un buon fine settimana Grazie per aver guardato la mia squadra Grazie per aver guardato la mia squadra Grazie per aver guardato la mia squadra